Il Tempio di Debod La Spagna fu fra le nazioni che prestarono il proprio intervento per smontare e trasferire i templi in aree più sicure. Come segno di ringraziamento, l'Egitto fece dono alla Spagna del Tempio di Debod, che fu spedito per mare e trasportato fino al Parque dell'Oeste a Madrid, dove fu riassemblato e inaugurato nel 1972. Da allora il Tempio orna il parco e oltre a un piccolo museo interno che può essere visitato gratuitamente, ospita eventi culturali, rassegne cinematografiche, concerti ed è amatissimo dei giovani che si danno appuntamento qui per fare festa nelle sere d'estate. Il Tempio è particolarmente suggestivo infatti quando il sole cala e il riflesso della luce sull'acqua si accende dei colori del tramonto, uno spettacolo insolito e affascinante. Il Tempio Il Tempio Grazie a tutti.